Curioso vedere i protagonisti del processo Banca Etruria, tutti dalla stessa parte della barricata. L'occasione è stato il convegno della ASL Toscana Sud-Est e dell'Ordine degli Ingegneri di Arezzo dedicato all'approfondimento sulle norme e le attività anticorruzione negli appalti pubblici. L'iniziativa svoltasi presso l'auditorium Pieraccini del San Donato di Arezzo ha visto tra gli altri una serie di interventi molto qualificati e molto attesi. Quello di Roberto Rossi, procuratore della Repubblica di Arezzo, che ha presentato la legge anticorruzione negli appalti pubblici. Quello dell'Avvocato Antonio D'Avirro, che ha fatto una valutazione sulla corruzione in Italia dopo la riforma Severino. E quello dell'Avvocato Antonio Bonacci, che ha illustrato il nuovo codice degli appalti come strumento di lotta alla corruzione. Ha concluso l'ingegner Antonio Turco, che ha parlato dei fenomeni corruttivi nell'esecuzione dei lavori pubblici. Tematiche importanti e di grande attualità. Non sempre, come ha ricordato Roberto Rossi, la corruzione si riesce a percepire a prima vista, anche in base alla nuova legge anticorruzione. Occorre un'attenta valutazione e soprattutto una conoscenza approfondita della legge anticorruzione, che garantisce il regolare svolgimento degli appalti pubblici. Altra materia delicata, la realizzazione e compilazione dei bandi, che spesso nasconde insidie. Una materia insomma da approfondire non solo per gli ingegneri, ma anche per i professionisti e per tutti coloro che hanno a che fare con la pubblica amministrazione. I casi di cronaca dimostrano che di conoscenza ce n'è davvero bisogno.